ciao a tutti eccoci qua con un nuovo gioco vi mostro l'occorrente allora una scatola di cartone o un cestino la scatola verrà forata praticamente ai lati dopo vi mostro perché cosa elastico o una fettuccia elasticizzata tipo pai e dei rotolini di carta igienica vi mostro il gioco già realizzato allora perché non avesse un cestino di questo genere abbiamo detto che va bene la scatola di carta per chi avesse una gabbietta dobbiamo realizzare appunto questo tipo di lavoro passo la fettuccia in modo tale che passi appunto all'esterno della scatola per creare diciamo delle dei punti fissi all'interno tra un passaggio l'altro inserisco i rotolini di carta igienica in modo tale che cane debba spostarli agilmente per prendere il bocconcino va bene questo ma è un gioco semplicissimo l'unica cosa che ci vuole un po di tempo per realizzarlo il cartone ovviamente può essere forato al centro oppure in alto perché comunque dobbiamo lasciare uno spazio per fare in modo che il cane possa andare a fondo a prendere praticamente il bocconcino per fare in modo tale che ci vuole un po di tempo buon divertimento ciao